Wefunghetti, prima che inizi il video vi ricordo che ogni giorno sono in live su Twitch dalle 15.30 fino alle 17.30 e invece di sera dalle 21 fino alle 23. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi aspetto su Twitch. La casa a forma di caffè mi avevi detto? Non lo so, sono cose un po' particolari perché casa a caffè non è che posso creare io. Se mi dici tipo casa horror, ok faccio come mi pare, ma casa a caffè, il caffè è quello. Quindi ci penso, per quello ci penso. Casa a forma di libreria 7x9. Aspetta, metto insieme le due cose. Attenzione ragazzi, attenzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faccio 8. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faccio 8x8. Sapete cosa fa 8x8? Sapete quanto fa 8x8? No, fa le pere, 1x8. 3, 2, 1. Casa, libreria a forma di tazzina da caffè. Bam! Calcestruzzo. Calcestruzzo dov'è il signor Calcestruzzo? Calcestruzzo bianco. Calcicciuccio bianco. Calcicciuccio bianco. 1, 2, 3, 4. Ovviamente è tonda. Se non ci credi? Non ci credi? E te la faccio vedere io. Vicky, mi fai rischiantare? Yeah! Yeah! Non so cosa fare. Yeah! Vabbè, guardate che commenti così, ragazzi. Yeah! Yeah! Allora, una seconda. Attenzione, ragazzi. Ho fatto prima l'esterno, poi ho messo il tracciato interno e poi guardate cosa ce la faccio. Guardate cosa ce la faccio. No, lì no. Ce la faccio. Bam! Si leva tutto. Ok. Mi sembra buono, no? Ora la voglio anche con il timer farla in 5 minuti. Cosa mi zica? Buona fortuna a meno perché non sarà facile. Non mi conosci. Bellissimo. Allora, stai fermi, eh? Era quello che ho fatto. Allora, calcio e struzzo marrone. Vediamo un po', eh? Si è fatta male, Mila. Si è fatta male? Ho sentito tipo un miasto che se ne va col paese. Ah, bello. Allora, posso farla più bassa? No, perché non voglio fare tanto altro. Ok, no, aspetta ragazzi. Fermi tutti. No, la faccio più bassa perché ho in mente una cosa. Facciamola così. Facciamo, no. L'altezza è quella però faccio così. Volevo fare un effetto diverso però lo faccio in questo modo. Faccio in questo modo. Mi hai fatto paura di... Ragazzi, mi raccomando se volete supportare con queste bellissime... Guarda che bello, mamma mia. E sopra, e sopra ovviamente si vede. E rieccomi. Ragazzi, guardate. Mamma mia. Vabbè ora, ora lo so spaventare questo. Allora, Redstone. Usiamo anche la Redstone. Vai. Per fare dei bellissimi tavolini. Cosa molto semplice, ragazzi. Questa bisogna saperle. E rieccomi. E rieccomi. Ma perché? Perché lo stai spammando? E rieccomi. Vai, rifatelo. Ancora, ancora. E rieccomi. E rieccomi. Allora, mettiamo subito la porta. E... Vicky, 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 vicky. Vai, vai, è successo una cosa bruttissima, vai, è successo una cosa bruttissima. No, una mia amica si sta divertendo a fare tipo le scritte, tipo graffite, cose così, e una volta gli ho detto, oh, fammi una scritta con il mio nome. E qualche giorno prima ha scoperto che il mio soprannome era lo stesso di una crema. Allora, Massimo, Massimo, ti scrivo la crema a Vichy. E io fallo. Certamente che deve farlo. Sì, era meglio. Certamente. Sì, era meglio. Perfetto. Ok. Ok, poi qua ci mettiamo... Oh, segnale. E metti uno, ok. però faccio così ragazzi guardate standard guardate guardate eccolo qua sedia qui tutte le parti ma sono cinesi che si siedono così in basso eh ragazzi le sedie sono queste qua in minecraft purtroppo sono così doveva essere anche una casa una casa quindi aspettate questi due si levano deve essere anche una casa quindi letto letto questo letto così con se levo questo va via la sedia non mi ricordo però aspetta facciamo così no perché sennò poi c'è troppa carne al fuoco quindi mettiamo 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 così scale scale fornace fornace mettiamola di qua ragazzi così così quindi non si vede ciao amico poi tappeto tappeto grigio ci sta tappeto grigio poi fiori 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 quando spammate di buono ragazzi ma come come è bello ma che cosa vi fa a meno no eh ci sta ci sta ci sta ragazzi la la casa la casa caffè libreria mamma mia quindi ragazzi ecco qua la bellissima casa base libreria di caffè così bellissimo grazie le good god 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 god